Per la terza volta consecutiva, in occasione della giornata della memoria, centinaia di studentesse e di studenti sono tornati ad animare il Giardino dei Giusti di Via del Pascolo, qui a Nichelino, dedicato a coloro che rischiarono la vita per salvare gli ebrei dallo sterminio, ma non solo gli ebrei. È un momento forte che parte dalla necessità di conoscere e approfondire i meccanismi storici che hanno determinato il male assoluto dei totalitarismi e della Shoah. Donne e uomini coraggiosi, mossi da sentimenti di giustizia, questi sono i giusti, persone per lo più comuni che seppero però fare la differenza. Assieme a Garivo, la fondazione titolare del Giardino dei Giusti nel mondo e all'associazione Spostiamo Mari e Monti, la città di Nichelino ha collocato insieme alle scuole dieci nuovi alberi intitolati alla memoria di altrettanti giusti che si vanno ad aggiungere ai 30 già piantumati negli scorsi anni. Christine Harstad-Schouf, Chico Mendes, Evrin Kalaf, Daphne Vlomundi, Ricky Richard Anywhere. Abbiamo sentito dei nomi di donne, donne che hanno fatto molto per gli altri. È un esempio per voi? Ci avete riflettuto su questo? Sì, ci abbiamo tutti quanti riflettuto molto intensamente e credo che dovremmo prendere come esempio queste donne che in passato, pur essendo discriminate, abbiano aiutato la popolazione. Sì, è una giornata molto interessante, grazie alla lettura delle biografie abbiamo imparato molto su vari personaggi che appunto hanno avuto un ruolo molto importante nella storia e è stato molto bello. E certe volte le discriminazioni sono anche a scuola, no? Sì, esatto. Bisogna sempre denunciare, parlare sulle cose che si vedono e non girare la faccia perché se no le cose non cambieranno mai e dobbiamo imparare fin da piccoli a non discriminare nessuno e questo giorno è importante anche per questo. È un giardino che cresce quindi loro sanno che questo è un atto fortemente simbolico, quello di piantare un albero alla memoria di un giusto ma poi questo percorso prosegue e continua nelle attività che in classe svolgono ma nei momenti anche informali di confronto tra loro perché loro nel percorso che stanno svolgendo qui capiscono che quello di cui ci occupiamo è di memoria, quindi di storia, di passato ma che questa storia e questo passato deve ancora insegnarci tanto per il presente ma soprattutto per immaginare un futuro diverso, un futuro che sia possibilmente di pace.